È nato alla Dispoli il comitato dei genitori della scuola Corrado Melone. L'obiettivo non dichiarato della nuova associazione è quello di difendere l'operato del preside Riccardo Agresti e di impedire la sua rimozione. Il dirigente infatti aveva confidato di aver ricevuto molte pressioni dopo che il sindaco Alessandro Grando si era recato presso l'ufficio scolastico regionale. Non siamo un braccio del dirigente, specifica tuttavia il presidente Sergio Maggiolini. Agiamo nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione e della laicità intellettuale basandoci sulla volontarietà, sulla solidarietà e sull'impegno della partecipazione. Il comitato, si spiega nella nota ufficiale, si configura come un organo di partecipazione alla vita dell'istituto che si realizza collegando e coinvolgendo tutti i genitori degli alunni frequentanti. È infine indipendente da ogni movimento politico, religioso e confessionale non perseguendo alcun fine di lucro.